Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale del signor Shady Allora, voglio fare un po' di chiarezza perché sono uscite altre notiziole riguardo a PES 2022 alla demo Non chiamiamola demo, chiamiamola AlphaTest Online Anche se loro prima l'hanno chiamata Beta, poi l'hanno chiamata Alpha Allora, l'unica cosa che mi sento di dire riguardo alla demo E' che ragazzi, ce lo siamo domandati tutti, l'abbiamo visto tutti E' molto molto indietro, nel senso è molto tagliata Non vi preoccupate perché è impossibile che ci sia una grafica del genere ragazzi E' totalmente impossibile perché non è neanche una grafica da Unreal Engine Non è neanche una grafica che supera neanche di uno spicchio, diciamo Non supera in nulla ovviamente PES 2021 E si vede ragazzi, si vede tantissimo che la risoluzione è abbassata apposta Soltanto per testare i server Quando uscì la demo, ovvero anzi La Beta, ovvero anzi l'Alpha Ieri notte mi sono messo a giocarla Non c'era alcuna comunicazione da parte di Konami Non c'era comunicazione Significa che nessuno di quelli che l'ha giocata alla mia ora Sapeva del fatto che gameplay e risoluzione fossero stati tagliati Di PES 2022 ovviamente, parlo Fossero stati tagliati soltanto per concentrarsi nel testare i server online E che quindi sia risoluzione abbassata che gameplay mozzato Avrebbe causato questo squilibrio tra la community e tra i fan Perché molti ci sono rimasti di merda Alcuni invece, come me, sono stati un po' preventivi Dicendo, ragazzi, Konami non ci ha fatto sapere niente Un motivo ci sarà E quello potrebbe essere che comunque questa Beta Per questo non l'hanno chiamata PES 2022 Beta Online Perché è tagliata È clamorosamente mozzata Quindi, ragazzi, io invito tutti molto alla calma Di stare tranquilli perché veramente il gioco non sarà così Arriverà una demo, ragazzi Una vera demo ufficiale Con il nome ufficiale Non vi preoccupate Adesso ci hanno detto che questa era una situazione In cui volevano testare i server Io personalmente In questa condizione in cui erano In questa condizione parlo di Stato di lavori O di Beta pronta Perché, ragazzi, per fare una Beta O una demo Non è che basta prendere un gioco e tagliarlo Non si può fare Bisogna prendere proprio il tuo studio di sviluppo E sviluppare una demo a parte È un altro gioco la demo Non so come dirvelo Non si può prendere un gioco e tagliarlo E proporre una demo al pubblico Bisogna studiarla proprio una demo Quindi Siccome Non lo so, mi viene da pensare a questo punto Che avessero già pronta Questo piccolo Beta testing L'avessero già pronto E non avevano intenzione di perdere tempo Per lavorarci su questa demo Perché tanto Magari ci stanno già lavorando Ma arriverà Al ridosso dell'uscita Verso agosto Fine agosto Inizio settembre Penso più fine agosto, ragazzi Quindi Io volevo solo dirvi questa cosa State tranquilli Non succede nulla Aspettiamo il 21 luglio Per il reveal Ufficiale Con il trailer Di gameplay E lo vedremo Da lì Manca poco Anche al 21 luglio Non manca tantissimo Ragazzi Quindi State tranquilli Ci vediamo alla prossima Vi mando un bacione Ciao a tutti Ciao ciao